Giochi, laboratori e attività all'aperto ma non solo. Milano Bicocca si svela alla città in occasione di Università Svelate, la giornata indetta dalla conferenza dei rettori delle università italiane che ha permesso a ricercatori, studenti e cittadini di riflettere e approfondire sui temi più attuali della comunità accademica. Oggi è una giornata veramente di festa, molto significativa perché è la prima volta in Italia che si festeggiano le università in maniera unitaria. Tutti e 85 gli Atenei infatti hanno le porte aperte. A essere svelati non sono stati solo i segreti della ricerca e delle attività scientifiche ma anche i temi sociali che toccano da vicino la quotidianità dell'Ateneo e della città come l'emergenza abitativa per i giovani a Milano con particolare riferimento agli studenti universitari. Ad aprire la giornata è stato infatti un seminario durante il quale è stata presentata l'indagine svolta dall'Università di Milano Bicocca a cui hanno partecipato quasi 20.000 studenti iscritti, ideata per fornire un quadro del bisogno abitativo degli studenti e dell'esperienza degli studenti fuori sede e discutere delle possibili politiche per rispondere ai loro bisogni. La rettrice Giovanna Iannantuoni alla presenza dell'assessore all'Università Ricerca e Innovazione della Regione Lombardia Alessandro Fermi e dell'assessore alla Casa e Piano Quartiere del Comune di Milano Pierfrancesco Maran ha lanciato l'idea di costituire un osservatorio sull'emergenza abitativa. Il tema dell'alloggio in generale del diritto allo studio è un tema fondamentale se noi vogliamo garantire al numero maggiore possibile di ragazzi la possibilità di formare se stessi e davvero di avere nelle università come la lettera del Presidente Mattarella ha specificato oggi un luogo di coesione sociale che è importante proprio per la democrazia del nostro Paese. Oggi abbiamo lanciato un osservatorio in rete con gli altri Atenei per studiare, analizzare le caratteristiche del housing che evidenzia molte criticità ma anche alcune cose positive. Tra i tanti eventi organizzati dall'Ateneo tra analogiche partite di scacchi e tour virtuali in 3D, il gioco della privacy ha fatto riflettere su un tema intergenerazionale di grande attualità. Per diffondere un po' di consapevolezza di come gli algoritmi di oggi utilizzano i nostri dati e li diffondono. Infine il valore della ricerca è stato al centro degli eventi organizzati presso il vivaio Bicocca. I ricercatori di Bicocca sono uscisi in campo presso il vivaio che è uno spazio di studio, di partecipazione, di apprendimento portando al pubblico generale, studenti, cittadini, i risultati, le idee sui quali inversano il loro tempo e le loro energie nei laboratori di ricerca. È sempre più importante far comprendere a tutti quello che viene fatto all'università, lo scopo della nostra ricerca e quanto valore può essere trasferito da questi luoghi verso tutto il mondo.